Siamo con Massimo Bonelli, un cognome che poi ricorda anche un po' i fumetti, no? Ebbè, magari essere parente... Nessuna parentela, però comunque nell'arte... Beh, quello sì, infatti la mia immagina... Sono musicista fallito in realtà, quindi sono... Le musiciste fallite diventano ottimi manager musicali, quello che stai diventando tu. Ci sto provando, dai, speriamo di farlo. Il debutto del primo maggio per te, questo? Beh, io ho avuto già un'esperienzina l'anno scorso come produttore esecutivo, quindi ci mi sono già un po' fatto le ossa, e quest'anno invece partiamo come organizzatori, quindi insomma... Parliamo di musica, allora, ci sono gruppi rock ormai che il primo maggio lo conoscono a memoria, no? Poi quel palco, da Alma Megretta, Enzo Avitabile e così via. E a proposito, i Modena City Rambles, se ci sono... Allora, io sono molto amico dei Modena City Rambles, ci siamo sentiti, ci siamo detti, facciamo pure quest'anno, rimandiamo all'anno prossimo, almeno per darsi un'alternanza, se no poi diventa una cosa... Bene, velocemente. Amici del primo maggio, ma questa cosa è di posare. Velocemente, abbiamo parlato anche col collega, cambiamo tono, Pino Daniele ci ha lasciato purtroppo, ci sono dei suoi amici, James Enese, Teresa De Sio di Napoli, Renzo Avitabile, sarà ricordato senza dubbio? Io sono campano, la risposta... Napoletano no, non sono napoletano, sono saternitano, all'accento, sono ebolitano in realtà. Ma di eboli, quindi sarà ricordato, lo può anticipare? Ma sicuramente sì, è ovvio, c'è già un'idea carina che ovviamente non sveliamo perché è giusto che sia... Una sorpresa. Certo. E per quanto riguarda i grandi nomi, i big, ci sono alcuni da Sanremo, no? Alex Britti... Sì. Noemi ha partecipato anche se... Noemi... Poi c'è l'altra cantante, c'è Paola Turci, l'altra di Sanremo, adesso mi sfugge a un lapsus... No, è l'altra... Irene Grandi, se la Sanremo. Sanremo abbiamo, la quota Sanremo, Irene Grandi, Nesli e Alex Britti, dove Alex Britti... Abbiamo Cuzzo, dei giovani, che voi avete lanciato... Però Cuzzo sono primo maggio in realtà, perché vengono dal primo maggio... L'avete lanciato... Sanremo è arrivato dopo in questo caso. Nesli e... Allora, Irene Grandi e Britti, diciamo, sono... Al di là di Sanremo del 2015, sono comunque degli artisti che vengono da lontano, hanno una storia di certo tipo... E ci sembravano giusti per arricchire il partire dal lato pop. Britti, in particolare, fa da un set... Litarra. Sì, comunque Britti, diciamo, da quel punto di vista è ineccepibile, è un set molto particolare. Spettacolare. Sì. Quindi, la nostra scelta, appunto, è quella rispetto al venticinquesimo anniversario di raccontentare un po' tutti e di festeggiare questi venticinque anni, quindi con un cast realizzato in un mese e mezzo. Quindi il tempo era quello che era. Abbiamo dovuto correre per fare... A ottenere il miglior risultato nel minore tempo possibile. Abbiamo deciso, quindi, di scegliere in maniera eterogenea gli artisti per avere rappresentanti importanti di diversi generi. Quindi c'è il pop, come tu hai ricordato. Rap. C'è il rap. C'è il pop, ovviamente. C'è il metal, addirittura, con i lacuna coil. Una cosa importante, prima che mi scordo, oltre alla musica, ci sarà cabaret, ci sarà qualcosa a livello di provocazione, perché credo che ci debba anche essere, no? Ricordiamo l'anno scorso Ligabue, o altre cose che esulano un po' dalla musica. L'anno scorso era Pelu che ha detto una cosa. Pelu, scusa, no, Ligabue, scusa, Pelu. Perdonami. Ligabue adesso è saltato sulla... Li confondo, forse per la voce, non lo so, non c'ero in quel tempo. Ci sono sicuramente dei momenti di intrattenimento diverso, però il 3 di unione... 80 euro, noi famosi 80 euro di Renzi, no? Io ero già andato, ero già fuori di me a quell'ora, quindi non ricordo bene come fosse andata. In realtà, quest'anno puntiamo molto sul concerto, che sarà un puntino. Avremo dei momenti backstage nei quali ci saranno ovviamente delle fasi di intrattenimento anche molto importanti, però l'idea è che la musica continuerà sempre. Sul palco ci saranno, per esempio, abbiamo visto, c'è il ritorno di Massarini, ma anche Paolo Rossi, no? Che comunque è un comico, cabarettene. Ci sarà qualche esibizione per far ridere, detto proprio così? Beh, sì, noi amiamo ridere, siamo italiani, per cui sicuramente sì, ci saranno dei momenti ilari, sicuramente. Benissimo. Allora, ti ringraziamo e buon lavoro. A presto a tutti, grazie. Viva il primo maggio. Viva il primo maggio, assolutamente.